È stata rilasciata una nuova app per la realtà virtuale, targata INAF, che permette di esplorare affascinanti resti di supernova che celano delle energiche pulsar in un ambiente immersivo e interattivo. L'app si chiama Starblast ed è stata realizzata grazie al contributo della Cost Action Pharos. Ma com'è nata l'idea di questo progetto? Questo progetto nasce sulla scia del successo del progetto 3D MapVR che ha mostrato l'efficacia della rappresentazione in realtà virtuale di oggetti astrofisici. Abbiamo deciso quindi di fare un ulteriore passo avanti e di realizzare un'app vera e propria che permette all'utente di navigare in maniera molto coinvolgente all'interno di sorgenti estreme, quali possono essere i resti supernova, i prodotti dell'esplosione stellare e le pulsar Winnebule. Quest'app permette all'utente non soltanto di esplorare in dettaglio la struttura di queste sorgenti, osservando delle sorgenti reali che sono state ricostruite sulla base di modelli magneti idrodinamici estremamente accurati e anche sulla base dell'analisi di osservazioni, ma permette anche di giocare in qualche modo con queste sorgenti, muovendole, spostandole, ingrandendole, in modo tale da poter raccogliere in dettaglio la loro morfologia e poterne apprezzare anche la bellezza. Ci sono però anche dei livelli più profondi di fruzione di quest'app destinati ai studenti ma anche ai ricercatori, perché le tecniche di visualizzazione in realtà virtuale permettono anche di apprezzare la fisica che governa queste sorgenti, il ruolo del campo magnetico, la fisica degli shock, l'interazione col mezzo circunstellare. Tutti questi aspetti possono essere colti in una maniera più profonda, grazie all'utilizzo di queste tecniche di visualizzazione. Al momento abbiamo a disposizione una galleria che comprende cinque modelli, tra cui sono presenti dei resti supernova che ospitano al loro interno una pulsaro in Nebula, abbiamo la Crab Nebula che forse è l'esempio più famoso, abbiamo i C443 e abbiamo anche SN 1987A in cui si pensa che all'interno risiede una stella di neutroni. Poi abbiamo Cassiopeia, un altro resto di supernova giovane, al cui interno è presente una stella di neutroni e infine abbiamo un oggetto un po' diverso dagli altri che è il resto di una supernova esplosa nel 1600, che è il resto di una supernova di tipo 1A, quindi il prodotto dell'esplosione di una nuova bianca, che sta interagendo con una nube atomica in cui si può apprezzare l'interazione del resto di supernova con la nube proprio attraverso la simulazione. Quest'app è compatibile con i più diffusi modelli di visori in realtà virtuale, comprende anche un help online che può aiutare l'utente nella gestione dei controller e c'è anche una voce fuori campo per ogni modello che spiega per grandi linee l'oggetto che si sta osservando, anche se poi è presente anche una bibliografia più approfondita con il link alle pubblicazioni scientifiche per approfondimenti più dettagliati. L'app è disponibile sia in italiano che in inglese e in spagnolo e l'app sarà ovviamente distribuita gratuitamente, fateci sapere cosa ne pensate.